Oggi ho una chicca impressionante che nessun altro in Italia ha ancora trattato. Un case tra i migliori nella categoria Micro ATX. Et voilà! Permettetemi di introdurvi la 3 Micro ATX, una collaborazione tra due titani nell'ambito dei case. Da una parte Dan Case e dall'altra Lian Lee. Potete già capire che sarà qualcosa di molto interessante a assemblarci dentro. Oltretutto è uno di quei case che se ne frega completamente dell'estetica delle componenti. Potete metterci dentro il meglio e fregarvene completamente. D-RGB, LCD, tutto quello che è, non ve ne frega niente. E oltretutto, adesso vediamo una cosa. Ditemi se questa parte frontale non vi ricorda un Fractal North. Signori, il prodotto perfetto per chi ama i Mini TX ma non si vuole fare un Mini TX. Ma mantenere comunque tutte le caratteristiche positive degli stessi. Formato Micro ATX, Lian Lee per Dan. Assembliamo. Paratie laterali senza viti in realtà. Soltanto quella superiore è da smontare nell'eventualità in cui ci serva un dissipatore a liquido come quello che useremo noi. Qua mi taglio un dito? Bello che Lian Lee includa sempre nei suoi prodotti questi separaviti utilissimi per assemblare quando avete tantissimi viti. E che contengono ovviamente anche tutti gli accessori del case. Poco ecologica la plastica dura ma molto funzionale. Questo è un po' più complesso come case ma soltanto seguendo le istruzioni si risolve il 90%. Si rimuove così e cos'ha? Uh! Questo manuale ti ricorda di mettere l'input output. Sanno con chi stanno avendo a che fare. Ok possiamo assemblare. Step 1 dobbiamo inserire la scheda madre. In questo caso Micro ATX ma il supporto è anche Mini TX. Non ATX. Quello non ci entra proprio ma è un case minuscolo. E adesso? Si può mettere di tuta in bocca. Ok prima di far passare questo bestione da 360 mm allocarlo e bloccarlo voglio montare l'alimentatore perché ovviamente essendo un case di dimensioni ristrette qui è dove passeranno i cavi dell'alimentazione della CPU in questa zona qui e ci sarà lui in mezzo. Quindi di per sé sarà molto più difficile dopo e non abbiamo una zona retrostante in cui lavorare con i cavi. Quindi dobbiamo assolutamente farli passare prima. Non dimenticatevelo. Questo vale per un po' tutti i case Micro ATX piccoli. Ok adesso installiamo le ventole. Ne mettiamo una in estrazione qui che si aggiungerà le tre del dissipatore qui e due in emissione qui sotto. Ce ne sta anche una terza sempre da 120 mm però onestamente la trovo abbastanza superflua perché la lunghezza della scheda video che andremo a utilizzare finirà qui. Nonostante comunque questo case abbia un incredibile supporto 4 slot più ventole. Pazzesco. Ok allora questo qui invece si può connettere tranquillamente qui sotto. Allora io sto seguendo uno a uno il manuale per essere sicuro di insomma avere l'esperienza utente più normale possibile. Devo essere onesto in questo passaggio io prima di mettere le ventole considerato quanto grosse sono, le mie sono da 25 quindi sono perfettamente nella media, avrei voluto far passare i cavi della scheda madre specialmente quelli dell'input output inteso come on e off. Perché adesso sarà un po' più difficile. Non impossibile un pizzico più complesso. Questo case come tanti altri moderni ha l'F panel, la parte frontale tutta quanta riunita in un unico cavo e dobbiamo però andare ad inserirla lì sotto. Non semplicissimo, non impossibile. Fatto! Per non saperne leggere né scrivere mettiamo anche gli altri cavi come la USB-C direttamente e la USB 3.0 qui. Perfetto. Ora dobbiamo montare l'alimentatore. Alimentatore che dovrà essere inserito all'interno di questa apposita gabbia che poi si andrà a mettere sopra il case stesso. Anche se si tratta di un case piccolo il supporto è molteplice cioè abbiamo SFX e ATX. In questo caso l'unica differenza è che l'ATX potrebbe andare a creare qualche piccolo livello di incompatibilità con le build di maggiore estensione come per esempio un grosso dissipatore ad aria. Però per il resto assolutamente potete scegliere di utilizzare o un ATX come questo vita di FSP o un SFX come questo Corsair. Sta a voi. Per curiosità proviamo l'ATX. Allora quello che dobbiamo fare noi è prendere e metterlo all'interno della sua piccola scocca. Le due viti che saranno già assemblate sulla stessa che lo tenevano attaccato al case e poi lo montiamo nella scocca del case. Allora le possibilità sono due. O si monta con la ventola rivolta verso il lato posteriore o si monta qua davanti. Abbiamo più possibilità per l'alimentatore in base a come combiniamo la nostra build. Ci lascia molta libertà. Noi lo montiamo qua davanti e dobbiamo far entrare in posizione i pirulini qua. Molto 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 lineare. In questo caso però pescherà aria dalla parte interna. Ok. Questi cavi ce li sistemiamo momentaneamente fuori. Così. Lo blocchiamo. E adesso connettiamo tutti i cavi dell'alimentatore perché sennò dopo diventa un casino montare il nostro dissipatore. Specialmente se avete un dissipatore ad aria o ovviamente un 360 mm che non possiate mandare nella parte frontale più facilmente. Fate attenzione a questo passaggio o vi complicherete tantissimo la vita. La cosa bella di questo case però è che non te ne frega niente del cable management. Cioè attacchi come vuoi e te ne freghi. L'importante è che non si occludano le ventole. Qui attacchiamo questo. Ok. Poi questo lo mettiamo qua. Non penso di aver mai visto in vita mia un cavo della scheda madre entrare così facilmente. Cioè morbidissimo. Bello. Bravi FSP. Ok. Adesso inseriamo il nostro dissipatore da 360. Nella maniera più complicata possibile. Che ovviamente non entrerà perché c'è l'alimentatore nella parte frontale. Devo farlo scendere. Quindi noi prendiamo questo lo apriamo così e lo facciamo scendere. Andrei proprio all'ultimo slot a questo punto così da avere tutte le possibilità del caso. Allora in questo caso siccome il nostro dissipatore da 360 andrà in questa zona abbiamo bisogno di creare ovviamente spazio con l'alimentatore come abbiamo appena fatto. Ma anche la nostra ventola da 120 mm può avere del gioco in alto e in basso in base alle proprie necessità e l'estetica richiesta. Cioè in questo caso le viti come potete vedere sono scese effettivamente fino al livello più basso. In questa maniera io posso allocare il 360 che è una figata. Molta libertà come negli TX. Noi facciamo andare questo qua di qua. Facciamo entrare sulla CPU fan così. Esatto. Qualche leggera difficoltà tecnica da cosa è dovuta? Più che altro dalla pressione che applicano i cavi della CPU con appunto la parte della scocca del dissipatore che ci si va ad applicare contro premendo C. Sono comunque riuscito a bloccarlo ovviamente però se volete scegliere questo case che secondo me è interessantissimo assicuratevi di avere un alimentatore con cavi il più morbidi possibili. Solitamente gli SFX hanno questa caratteristica quasi sempre. Quindi state attenti a questo. Per esempio questo di Corsair preme veramente tanto e può diventare molto piccolo. Avendo io utilizzato un alimentatore ATX oltretutto di quelli da 1000W quindi probabilmente supposto più che altro per una build grande questa cosa non sussiste. Mentre avendo la possibilità di praticamente schiacciare a zero i cavi senza ovviamente danneggiarli questo rende molto molto più semplice la situazione andando a creare la possibilità di installare il dissipatore anche da 360 mm bello grosso dentro a questo case. Che poi fa ridere perché credo che su questa scheda madre ci sia allocato un 7700X quindi questo 360 mm è abbastanza inutile ma ci divertiremo. E per showcase. Allora con l'alimentatore rivolto così abbiamo la possibilità di mettere una scheda video delle dimensioni per esempio di una Founders di Nvidia. Qualcosina di più ci entrano ancora un 5-6 cm però se mettete un alimentatore SFX probabilmente agevolate questo passaggio. Quindi il mio consiglio è ATX ci sta è supportato però rende un po' più difficile il lavoro soprattutto con appunto schede video più lunghe. Se magari volete immettere un'altra ventole potrebbe essere necessario lavorarci. Lato invece dello spessore potete sbizzarrirvi fino a 4 slot il che è notevole. Però anche lì se montate le ventole nella parte inferiore state attenti perché effettivamente potrebbero cozzare con l'ultimo slot. Altra cosa essendo un case MicroTX utilizza schede madri MicroTX però fate attenzione perché alcune MicroTX ma penso forse la maggior parte non avranno lo slot direttamente sotto alla CPU o comunque in una zona abbastanza alta ma ce l'avranno nella zona intermediaria. Questo vuol dire che effettivamente una 2 slot non andrà a utilizzare il primo slot ma direttamente il 2 e il 3. Questo vuol dire che anche una 2 slot occuperà 3 slot. E questo vuol dire che una 3 slot occuperà 4 slot e rende un po' meno compatibile il compatibile. Ok devo essere onesto per fortuna dall'esterno non si vede ma soprattutto dovendo utilizzare questo slot e quindi non potendo partire dalla zona qui. Quindi effettivamente come potete vedere la scheda video va a essere a strettissimo contattolo con le ventole che si le tireranno aria addosso però potrebbe creare delle forme di turbolenza. Staremo a vedere più il rumore ovviamente perché si sentono. Al tempo stesso mi trovo a dire che il supporto a 4 slot è un po' limitato in base alla tipologia di scheda madre che è andata a scegliere. Quindi scegliete bene la vostra micro ATX se no passate direttamente a un ITX che ovviamente sarà più o meno qui come altezza dello slot e vi permetterà di inserire di più. Un peccato perché è un case che si focalizza tanto sul micro ATX e mi spiace vederlo così in difficoltà per questo. Cercate quindi una micro ATX con lo slot più alto possibile. Non andate a caso come ho fatto io cioè io ho usato quella che avevo qui in studio insomma in house. Ok la alimentiamo. Allora ci tengo a dire io ho usato un dissipatore a caso quindi di per sé questo agli RGB ma se voi prendete un modello che non abbia neanche i cavi degli RGB faccia una buona desigene chain e tutto quanto sparisce la metà di questi cavi. Una parte di questi potete tranquillamente nasconderla in pochi secondi. Oltretutto la scheda video ha un passaggio piuttosto pulito qui sotto per il suo cavo che la fa entrare bella bella tranquilla senza problemi fully seated proprio bella. Facciamo il primo avvio insieme quindi qua ok i ventoli stanno spingendo aria nella maniera giusta per esempio dissipatori come purtroppo non ci sono più quelli di cool dark zero sarebbero perfetti in questo contesto secondo me. Pochi cavi tutti attaccati molto molto stretti una singola uscita per alimentare tutto fantastico ok nessun problema nella parte di avvio semplicemente vuole un output video e ci siamo fantastico ora lo testiamo. Quindi abbiamo il nostro case ve lo riapro così vedete le condizioni attuali non è cambiato niente rispetto a prima fondamentalmente case di una categoria molto specifica che so che però interessa un buon numero di persone perché già quando vi mostrai per la prima volta l'asus ap 1201 case con un formato dimensione e varie caratteristiche abbastanza particolare. Praticamente questo qui lo definirei un ITX per pigri perché a tutti gli effetti è un case di formato ridotto non troppo piccolo ma comunque piccolino soprattutto in altezza entra facilmente in molti setup ma al tempo stesso mantiene dei supporti come per esempio la gpu a 4 slot grosse dimensioni anche per i dissipatori ad aria 360 mm per i dissipatori al liquido e in generale non ha bisogno di cable management. E a tutto questo ci potete aggiungere che come avete visto la parte laterale blocchi ogni tipo di visione verso l'interno e quindi le componenti le potete mettere anche orrimili basta che siano funzionali quindi fantastico. Concorrente di mercato più diretto di questo case secondo me ovviamente è da nominare il PA201 di ProArt di asus ProArt case che in realtà trovo praticamente in pari forse questo qui offre qualcosina di più nel senso che ha più possibilità nel senso che potete montare l'alimentatore in più zone oppure comunque avete 4 slot di supporto per la scheda video. Al tempo stesso per le stesse dimensioni io vi direi che dovete stare attenti più che altro a quanto in basso rimane come vi ho detto prima la PCI della vostra scheda madre perché effettivamente se non ci fate attenzione potete finire come me che ho la 4070 che letteralmente sta attaccatissima alle ventole nella parte inferiore. Le soluzioni qui sono due o si prende appunto una scheda madre con una PCI leggermente più alta che permetta quindi più che altro di occupare il primo slot effettivo di quelli disponibili dei quattro oppure in caso questo non sia possibile perché magari la scheda madre ce l'avete già l'altra soluzione sarebbe prendere per esempio delle ventole slim quelle da 15 mm che ovviamente darebbero un pochettino più di margine circa appunto un slot di margine in più come spazio. Per il resto devo dire esperienza di assemblaggio piacevolissima ho notato come vi dicevo prima soltanto dei problemi con la rigidità dei cavi dell'alimentatore ma questo è appunto un problema dell'alimentatore non del case fateci attenzione se potete prendete dei cavi il più morbidi possibili. Come vi dicevo prima gli SFX sono spesso utili per questo temperature assolutamente niente da dire vabbè ho utilizzato una build che alla fine consuma 350 watt ma è anche una build mid gamma che secondo me con un case di questa fascia adesso non so ancora il prezzo perché voglio fare una reaction in diretta con voi penso sia l'ideale nel senso non dovrebbe costare troppo questo case comunque. Secondo me meno di 100 euro ad ogni modo interessante secondo me molto versatile particolare formato molto unico ITX ma non troppo e appunto potreste anche valutare di farci una build ITX dentro e recuperare molto molto spazio per utilizzare delle componenti molto più grosse. A questo punto ci potreste montare dentro anche qualche 4090 qualora la lunghezza più che altro lo permetta o montiate all'alimentatore in un'altra maniera. Secondo me le due cose da tenere in considerazione sono che un dissipatore ad aria potrebbe essere molto interessante in questa build in quanto vi permetterebbe di avere tre ventole in estrazione dedicate esclusivamente all'estrazione non alla gestione delle temperature di un dissipatore a liquido nella parte superiore ovviamente migliorerebbe anche gli spazi di manovra all'interno riducendo l'ingombro appunto del radiatore. Tre ventole sotto possono tornare utili la ventola in estrazione è assolutamente vitale modera molto meglio le temperature e secondo me le gestisce anche appunto in maniera egregia anche rispetto al PA201 ad ogni modo li ritengo dei case molto molto simili entrambi validi. Altra cosa interessante per l'apparatia frontale hanno fatto una versione che anziché essere nera così di plastica è in legno onestamente la trovo una cosa molto molto interessante più che altro perché rasenta un pochettino quella che è la dimensione estetica del fractal north e north xl che effettivamente non godono di una versione micro tx o etx parallela simile se non quella del raspberry che avevamo visto qualche tempo fa. Però effettivamente parlando è molto molto bella esteticamente se vi interessa c'è anche quella versione scopriamo il prezzo insieme così avete una reaction genuina. No il prezzo è onestissimo ragazzi allora il prezzo ufficiale in Italia è di 72 euro e 90 è competitivo in una maniera incredibile considerato che appunto il 201 di pro art viene venduto intorno ai 100 euro ultimamente se non mi ricordo male il prezzo di commercializzazione dovrebbe essere poco più basso. Quindi di per sé veramente valido la versione wood potrebbe costare un po di più ma onestamente valido vedo che può arrivare a 79 in base al rivenditore sì vedo che ci sono rivenditori che lo fanno a 76 79 onestamente prezzo onestissimo. Oltretutto vendono a parte il pannello per eventualmente mostrare le componenti all'interno se vuoi c'è il vetro. Per il resto niente da dire è chiaramente un case a cui vanno aggiunte le ventole quindi bisogna considerare questa parte della spesa ma questa è una categoria di case come un po tutti gli TX in cui questa è una cosa che viene data per scontato dai produttori nel senso Dan Case non ha mai fornito le ventole anche perché effettivamente raga diciamocelo chiaro le ventole che vengono messe nei case al 99% non sono mai buone come quelle che potremmo aggiungere noi. Io vi consiglio di mettere delle buone ventole tipo le Arctic P120 Max, delle Noctua, delle Be Quiet, delle Deepcool vabbè ormai non più ci sono tante scelte senza RGB risparmiate di brutto vi fate una bella build bella fresca potete mettere un po le componenti che volete in base ovviamente alle limitazioni a come lo montate personalmente mi sento di dire che questo è veramente un case eccellente. Per il resto ragazzi per questo video è tutto fatemi sapere ovviamente la vostra opinione su questa collaborazione tra Lian Li e Dan Case giù nei commenti noi ci vediamo al prossimo video vi siete su Mordentech. Salusa!